Bentornati al nostro appuntamento. Oggi continuiamo a parlare del reddito di cittadinanza. È una misura molto attesa da tanti cittadini. Proprio da pochi giorni sono stati rilasciati i modelli di domanda. Modelli di domanda che consentono quindi di iniziare a prepararsi per la presentazione che ricordiamo avverrà dal 6 marzo presso gli uffici postali, i CAF e presso il sito online del governo creato apposta per il reddito di cittadinanza. Vediamo il modello di domanda. Il modello di domanda è composto da diversi riquadri. Abbiamo il quadro A, appunto modello di domanda sia per il reddito di cittadinanza che per la pensione di cittadinanza in cui devono essere inseriti i dati anagrafici del richiedente, la residenza, dati di riconoscimento e riferimenti, email, cellulare, per permettere di contattare in caso di problemi. Il quadro B invece fa riferimento a quelli che sono i requisiti di residenza e cittadinanza. Ricordiamo la residenza deve essere da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Quindi devono essere dichiarati questi dati di residenza. Sappiamo che sono molto importanti per stabilire l'aspettanza del diritto. Il quadro C della domanda ritorna su quelli che sono i requisiti familiari. Ricordiamo che per presentare la domanda di reddito di cittadinanza deve essere presentato l'ISEE, quindi i dati che andranno inseriti tra i requisiti familiari del quadro C sono quelli dell'ISEE e della risultante DSU presentata già prima della presentazione della domanda. E poi abbiamo il quadro D dove vanno inseriti quelli che sono i requisiti economici. Noi li abbiamo riassunti con questi quattro simbolini, ovvero i motoveicoli, gli autoveicoli, i natanti, le imbarcazioni e le auto sopra una certa cilindrata. Rimandiamo poi alla puntata specifica per vedere quali sono questi requisiti, però è importante indicarli correttamente perché in caso risultassero questi elementi ci sarebbe una dichiarazione mendace da parte del cittadino. Poi abbiamo ulteriore quadro che è il quadro E, molto importante il quadro E, parla di quelle che sono le attività lavorative in corso non rilevate dall'ISEE. Perché non sono rilevate dall'ISEE? Perché l'ISEE andando a verificare i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate circa le dichiarazioni dei redditi non può avere i dati relativi ad esempio al 2017. Quindi se il cittadino che presenta la domanda di reddito di cittadinanza ha lavorato nel 2017 e nel 2018 deve presentare un ulteriore modellino aggiuntivo in cui ci dichiara quelli che sono i redditi che è percepito in questi anni e che sono rilevanti ai fini della concessione e dell'importo del reddito di cittadinanza. Invece nel quadro F abbiamo le condizioni generali per il godimento del reddito di cittadinanza. Che vuol dire per il godimento? Voi sapete che c'è un impegno a prestare una certa attività lavorativa per attività sociali, c'è un impegno a partecipare alla formazione, c'è un impegno a dichiarare la disponibilità all'impiego, c'è anche un impegno di effettuare tutte le attività necessarie in caso di mutamento della condizione lavorativa e della condizione familiare, anche in questo caso c'è un ulteriore modello che vi ho presentato successivamente quando si modificano queste condizioni, lo vedremo la prossima settimana. Invece nel quadro G c'è la sottoscrizione di dichiarazione in cui vengono indicate tutte quelle che sono le impegni e le autodichiarazioni, ricordiamo molto importante, si tratta di autodichiarazioni che impegnano la persona anche dal punto di vista penale e sappiamo che sul reddito di cittadinanza ci saranno controlli svolti da tutte le amministrazioni coinvolte. Diciamo che è molto importante partire bene verificare tutti i requisiti, ricordiamo brevemente l'iter, presentazione della Isee, verifica del buon fine dell'Isee, presentazione della domanda che poi viene trasmessa entro dieci giorni all'Inps che verifica in un tempo che possiamo stimare in cinque giorni, la bontà della dichiarazione. Poi c'è un tempo più lungo per avere la concessione della card da parte del soggetto emittente che è poste italiane. Quindi la parte importante su cui dobbiamo concentrarci nei prossimi giorni è quella della dichiarazione Isee che sia rispondente a quelle che sono le condizioni del nucleo familiare e poi la domanda che venga presentata con i relativi allegati che abbiamo detto lavoro in corso e variazione della condizione reddituale. Grazie, alla prossima puntata.